Quali sono gli agrumi più sanguigni in assoluto? Quelli più rossi, quelli più infiammati, quelli che hanno più antiossidanti in assoluto? Oggi ne parliamo. Da cosa dipende il colore intenso della buccia per quanto riguarda il rosso? Il colore rosso è dato da dei pigmenti, da degli antiossidanti che si chiamano principalmente antociani. Se ne sente molto parlare perché sono molto salutari, quindi fanno bene alla salute, aiutano le nostre cellule a mantenersi diciamo in forma. I prodotti che contengono antociani e antiossidanti in generale sono sempre consigliati per il benessere del nostro corpo in tutti i campi. Numero 1. Arancio moro. L'arancio moro è quasi sicuramente l'arancio più scuro che conosciamo al giorno d'oggi. È un arancio che matura fra gennaio e marzo, aprile circa. Quindi la maturazione dipende un attimino da il metodo di coltivazione, l'annata. L'arancio moro, a seconda della coltivazione, può avere una buccia più o meno spessa. Lo spessore della buccia dipende quasi sempre dal tipo di concimazione, dal terreno e dal portainnesto. Con concimazioni con un alto tasso di potassio si può avere la buccia un pochino più spessa. Inoltre anche la scelta del portainnesto può influenzare questa cosa qui. L'arancio moro non sempre diventa scurissimo, però diciamo che al suo interno riesce quasi sempre a prendere il colore rosso perlomeno. In alcuni casi il frutto può diventare anche viola, quasi nero, quindi molto particolare. C'è un'altra selezione, simile all'arancio moro però non è proprio identica, che si chiama arancio doppio moro. Il doppio moro non è altro che un moro con una vegetazione leggermente diversa, che però può dare un frutto che, nei casi fortunati, può diventare quasi nero, cioè veramente viola di un viola intensissimo. Un'altra varietà che può diventare molto scura al suo interno è il clementino rubino. Il clementino rubino è un... praticamente il clementino più rosso che ci sia. Ha un gusto molto intenso e molto particolare, nonostante abbia la buccia un pochino spessa e a volte presenta qualche seme. Però è una varietà unica, unica nel suo genere, molto raro anche da trovare, proprio perché ha queste caratteristiche eccezionali di dimostrare i suoi frutti in questo modo. Inoltre il clementino rubino è una pianta molto vigorosa che tende a crescere molto velocemente e quindi dà anche tante soddisfazioni dal punto di vista ornamentale. Il clementino rubino può essere utilizzato come un classico clementino, quindi potete mangiarlo così, come un mandarino qualsiasi, oppure spremerlo perché dona veramente un colore impressionante sia a succhi ma anche a qualsiasi altro tipo di preparazione. pensate che quando lo si sbuccia ci si può anche macchiare le mani e non è facile togliersi la macchia da addosso. Fra gli agrumi a polpa rossa voglio menzionarvi anche il pompelmo star ruby, perché non essendo comunque sia alla fine molto molto rosso, però è fra i pompelmi quello che colora di più, quello che tutti definiscono come pompelmo rosa e noi in realtà chiamiamo proprio pompelmo rosso, perché in realtà, in effetti, la polpa diventa di un rosso acceso quando è completamente maturo. Quindi il pompelmo star ruby, secondo me, deve per forza entrare in questa lista. Il pompelmo star ruby può essere utilizzato come un classico pompelmo. Ha un ottimo sapore, è abbastanza dolce, però secondo me è il miglior pompelmo che ci sia se volete fare delle spremute eccezionali. Ho deciso però anche di mostrarvi un'altra varietà che ha diversi nomi a seconda delle zone in cui è coltivata e a seconda un po' delle idee. Però ha questa caratteristica eccezionale di avere questa buccia veramente unica che può cambiare colore e farlo sembrare quasi un arcobaleno di agrumi. Questo particolare ibrido fra un arancio e un limone all'interno non è solitamente scurissimo, anche se può prendere delle tonalità di rosso. La caratteristica principale però è proprio il fatto di avere questa buccia unica, spettacolare da vedere. Due varietà di limoni di cui mi piacerebbe parlarvi sono, uno, il limone rosso, chiamato anche limone vinato, e due, il limone variegato a polpa rosa. Il limone rosso, chiamato anche limone vinato, è un limone che a seconda della stagione può diventare di un colore che va dall'arancione, un po' più comune di solito, fino anche addirittura a un colore viola intenso che è molto caratteristico e molto bello anche da vedere. Il limone vinato si utilizza come un classico limone, quindi può essere spremuto, si possono utilizzare le scorze, in pratica come un limone normale. Il limone variegato a polpa sanguigna, invece, è secondo me una vera e propria chicca. È una selezione di limone eureka, a foglia variegata, tra l'altro ha un colore variegato che è bellissimo, e fa questo frutto che quando è acerbo è variegato, quindi molto bello anche da vedere, e quando matura ha al suo interno un colore rosa molto fine, molto elegante anche, mentre poi la variegatura esterna sparisce. Bene, se questo video vi è sembrato abbastanza intenso e abbastanza sanguigno, come le varietà che vi ho appena fatto vedere, magari mettete mi piace al video, seguiteci, mi raccomando, se avete bisogno di qualcosa scriveteci come sempre, per qualsiasi cosa, insomma, siamo qua, lo sapete già, ci vediamo al prossimo video. Grazie. Grazie Grazie